Ben trovati amici telespettatori, ben trovati su video MIT. Ben trovati amici telespettatori, ben trovati amici telespettatori, ben trovati su video MIT. Ben trovati amici telespettatori, ben trovato, ben trovato, ben trovato. Quindi dicevamo, il cuore, questo muscolo perfetto, almeno alla nascita, nasce come muscolo perfetto, poi noi ci mettiamo del nostro per rovinarlo. Per rovinare tutto, insomma. Per rovinarlo, sì appunto. Allora, noi abbiamo un RVM, un contributo, giusto per far capire agli amici telespettatori che ci seguono da casa come funziona questo muscolo perfetto. Poi ritorniamo in studio e ne parleremo insieme. È il motore del corpo umano. Il cuore si dilata e si contrae ritmicamente per tutta la vita, per irrorare di sangue e sostanze nutritive ogni parte del nostro corpo. A forma di tronco di cono, capovolto e con la punta rivolta verso il davanti, è situato nel torace, sopra il diaframma, tra i polmoni e lo sterno. È grande come un pugno e pesa circa 300 grammi. Il cuore è avvolto da una doppia membrana biancastra all'interno della quale scorre un liquido lubrificante che ne attutisce il movimento e impedisce che urti contro gli altri organi. Il cuore è un muscolo cavo. È infatti diviso in quattro cavità. Nella parte superiore ci sono due cavità chiamate atri e nella parte inferiore altre due chiamate ventricoli. L'atrio destro è collegato al ventricolo sottostante e simmetricamente l'atrio sinistro è in comunicazione con il ventricolo sinistro. Parte destra e parte sinistra del cuore invece non sono in comunicazione tra loro. Il cuore è diviso in due poiché compie un doppio lavoro. La parte destra riceve dalle vene e spinge verso i polmoni il sangue venoso proveniente dal corpo e carico di scorie. La parte sinistra riceve dai polmoni sangue arterioso, pulito e ricco di ossigeno e lo pompa in tutto il corpo. Ecco perché parte destra e parte sinistra non sono collegate tra loro. Il sangue carico di ossigeno non può mescolarsi con il sangue ancora da pulire. A ogni battito il cuore aspira un decilitro di sangue. In un giorno transitano nel cuore 10.000 litri di sangue, tra arterioso e venoso. Il passaggio del sangue nel cuore dura circa mezzo secondo. Il percorso cuore, polmoni, cuore dura 6 secondi. Il sangue che va al cervello e torna al cuore impiega 8 secondi. Il sangue che scende fino ai piedi e torna al cuore ne impiega 18. Il cuore è il muscolo più potente di tutto il corpo umano. Un battito deve spingere il sangue fino ai capillari più lontani. La potenza di un battito del cuore potrebbe sollevare un peso di un chilo a mezzo metro di altezza. Anche se autonomo nel suo lavoro, il cuore risponde alle esigenze esterne e aumenta il ritmo del battito quando il corpo umano è sottoposto a stimolazione. Il cuore compie il proprio lavoro ininterrottamente per tutta la nostra vita. Bene, dottore. Allora, quali sono i fattori di rischio che mettono a repentaglio la salute del nostro cuore? Beh, sono parecchi. A me piace suddividerli con una vecchia classificazione che li distingueva in modificabili e non modificabili. Quelli non modificabili sono quelli su cui noi non possiamo fare niente. Quindi praticamente l'età, la familiarità. Se io ho un genitore che ha avuto un infarto, me lo tengo. Non posso modificare questa storia naturale. La razza. Invece quelli dove noi possiamo e dobbiamo intervenire sono i fattori modificabili. Il fumo, l'obesità, la sedentarietà, l'ipercolesterolemia, il diabete. Cioè sono quei fattori di rischio che possono essere suscettibili di miglioramento. Ho capito. E come possiamo mantenerlo in forma, questo muscolo perfetto? Questo muscolo perfetto lo possiamo mantenere in forma soprattutto con la prevenzione. Cioè dobbiamo prevenire la malattia, quindi tenere sotto controllo tutte queste spie che ci possono dare il segnale di un qualcosa che non va. Il sovrappeso. Tutti noi, prima o poi, saliamo su una bilancia. Se vediamo che stiamo in sovrappeso, allora iniziamo con una dieta, magari una dieta ipocalorica, semplicemente per perdere qualche chilo. Se al sovrappeso si aggiunge un aumento del livello di colesterolo, alla dieta ipocalorica aggiungiamo una dieta ipolipidica. Io ai miei pazienti che mi chiedono una dieta specifica, dico sempre, la dieta è questa. Tutto quello che viene dagli animali fa male. Quello che viene dalla terra e dal mare, escluso i crostacei, fa bene. Se uno si attiene a queste piccole, ma importanti misure di igiene e di vita, ha ridotto di parecchio il proprio rischio cardiovascolare. Poi bisogna tener conto della glicemia, del fumo di sigaretta, della sedentarietà. Cioè tutti questi fattori a cui bisogna pensare quotidianamente. Quindi una dieta mediterranea, ci diciamo che noi vivendo qui è... La dieta mediterranea sicuramente fa bene, fa bene in termini di prevenzione cardiovascolare. Non per niente i paesi anglosassoni, dove la dieta mediterranea era sconosciuta fino a poco tempo fa, ma dove negli ultimi tempi la stanno riprendendo. Ripeto, in questi paesi l'incidenza della cardiopatia ischemica, degli imparti, degli ictus, è di gran lunga maggiore rispetto a noi, perché questi usano tutt'altro tipo di dieta. Il grasso, lo strutto. Quindi è importante la dieta. Importante la dieta è l'attività fisica. L'attività fisica. Per migliorare il proprio assetto lipidico, per il colesterolo, per la pressione, per il peso, per il cuore in generale. Questa è una prevenzione che va fatta fin da bambini. Questa è la cosiddetta prevenzione primaria, cioè prima che accada l'evento. Perché i genitori invogliano molte volte i bambini a mangiare, anzi si lamentano se loro non mangiano. Grasso è bello, dicevano le nostre nonne. Io con la mia equipe negli anni scorsi ho fatto per due anni di seguito uno screening sui bambini di quinta elementare. I bambini di 10 anni quindi. E su 220-230 bambini che abbiamo screenato ogni anno, abbiamo trovato che circa il 30-33% di questi bambini era in sovrappeso. E questo va in linea con le statistiche nazionali. In Italia un bambino su tre è in sovrappeso. La cosa bella di questa indagine che abbiamo fatto a Pasano è che di questi 70 bambini in sovrappeso, due terzi avevano un genitore o tutti e due genitori in sovrappeso. Questo che significa che le abitudini familiari, alimentari, sono molto importanti. Quindi, ma siete andati direttamente nelle scuole a fare, ma lo rifarete, lo rifarete anche nei prossimi anni perché è molto importante questo tipo di prevenzione. Sì, questa prevenzione, questo screening l'abbiamo fatto due anni fa, poi con le note vicende di riordini ospedalieri ci è venuta a mancare la materia prima, cioè il supporto dell'azienda, il supporto dell'organizzazione, diciamo. Per cui sarà difficile che si possa riprendere questo tipo di screening, questo tipo di attività. E' chiaro che comunque, anche se non si fa lo screening, noi cardiologi, non io, ma tutti noi cardiologi, il messaggio che diamo sempre ai genitori, state attenti ai vostri figli. Ci rendiamo conto che è facile quando il bambino viene e ti dice mamma ho fame, rispetto ai nostri genitori che ci davano magari la frisella o il pane col pomodoro, siccome non c'è tempo, allora dice vabbè prendite una merendina, mangia qualcosa dal frigo e queste sono tutte abitudini alimentari che sicuramente danneggiano il bambino. Anche perché queste merendine, piene anche di conservanti e quant'altro, aumentano il colesterolo, quindi quello cattivo. Aumentano il colesterolo cattivo. LLDL. LLDL, l'LDL, che è il cosiddetto colesterolo cattivo perché il colesterolo che... Gli ateromi. Si, che si deposita sulle superfici delle arterie, quindi formando delle placche che poi magari si possono uccerare, si può formare il trombo e poi si hanno gli accidenti cardiovascolari. Proprio di infarti cardiovascolari volevo chiederle, come si può riconoscere, perché non è istantaneo l'infarto, comunque ha una profilassi temporale, cioè nel senso una persona con un infarto in atto, se ne può accorgere, se capisce quali sono proprio le lampadie, le spie luminose, parlavamo prima. Sì, voglio dire, l'infarto è un evento drammatico. Spesso, frequentemente, per fortuna il paziente se ne accorge, si accorge che questo dolore non è normale, questo dolore è strano, inizia a sudare freddo, dolore che lo fa star veramente male. Purtroppo, però, ci sono degli infarti cosiddetti asintomatici, soprattutto nei pazienti diabetici, che insorgono senza dolore. Magari noi ce ne accorgiamo a distanza di tempo, fortunatamente è andato bene, non ha avuto complicanze, ma il paziente si è ritenuto a casa questo infarto ed è andato avanti. Quindi bisogna tenere sotto controllo diverse cose, il diabete, i zuccheri, insomma, colesterolo. Bisogna fare la prevenzione, bisogna stare attenti. Bisogna fare un tagliando, come... Ecco, un tagliando, come le macchine, no? Ogni tanto va revisionata, vanno controllate le spie e se si vede qualche spia che lampeggia bisogna correre dal meccanico, no? E correre ai ripari. Il meccanico può essere il cardiologo, può essere il nutrizionista. Lei poco fa, in una risposta, ha toccato un argomento molto importante, dove i nostri telespettatori sono anche molto sensibili. Il riordino ospedaliero. Quindi ormai sappiamo che in diverse città, in diversi comuni, gli ospedali stanno chiudendo, cioè si stanno dislocando, unendosi in edifici che accorpano un po' tutto. Ma non avremo più l'ospedale di prossimità nei prossimi periodi? Oppure c'è un modo per poter poi... Il riordino ospedaliero in linea di massima potrebbe anche essere una cosa giusta. Cioè, il concetto di fondo è che in ospedale deve andare il paziente grave, il paziente da ricoverare. Purtroppo, fino adesso, siamo stati abituati ad andare in ospedale anche per la fesseria. Quindi, teoricamente, se noi destiniamo i posti letto solo ai pazienti che hanno effettivamente bisogno del ricovero, tutto sommato stiamo bene. Il problema è però che il paziente ha bisogno di una figura di riferimento, ha bisogno di un territorio, di una medicina territoriale che funzioni alla grande 24 ore su 24. Cioè, questa medicina territoriale deve scrinare, deve scegliere i pazienti che possono essere ricoverati. Il 118 è stato concepito un po' per fare questo. No, il 118 è stato concepito per accogliere e scrinare l'urgenza. Il paziente che arriva come al vecchio pronto soccorso. Il medico di 118 sa che cosa deve fare, se il paziente lo può mandare a casa o lo può ricoverare. La medicina territoriale invece dice, se viene il paziente con la cefalea, col mal di testa, si deve rivolgere allo specialista, al medico di famiglia, il quale valuterà e deciderà se ha bisogno di una terapia che può fare tranquillamente a casa, magari facendo in seguito dei controlli ripetuti, oppure se è necessario ricoverarlo. Ricoverarlo dove? Questo è un problema, perché le strutture che poi rimangono in vita sono sovraffollate. Quindi, diciamo, da una parte è una cosa buona fare il riordino ospedaliero, a patto e condizioni che però le strutture più grosse possano fare accoglienza, possano essere efficienti. Efficienti, sì. Quindi migliorare un po', andremo a migliorare un po' il sistema. Abbiamo visto dei casi in Campania, per esempio, che sono venuti alla luce recentemente, dei pazienti ricoverati per terra sulle barelle o addirittura sulle coperte a terra. Ma quella non è malsanità, è colpa della struttura che non è in grado di dare risposte e posti a questi pazienti. Il medico che deve fare? Lo deve mandare indietro il paziente? No, lo cura come è possibile che venga curato, a terra, a terra. Anche per fare fede al giuramento di ippocrate. Anche per fare fede al giuramento di ippocrate. Insomma, un'accoglienza migliore, quindi tra l'altro in tutte le strutture del sud Italia andremo incontro a questo tipo di situazione. Ma non è solo nel sud Italia, anche al nord. È europeo. Anche al nord, in Veneto, c'è un ospedale ogni 50 chilometri perché ci sono paesini di montagna che sono isolati. Capito. Lei, dottore, si è occupato e ha fatto anche parte della fondazione Attilio Maseri. 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 Si, no, no, anche perché so che il luminare della cardiologia è un punto di riferimento. È stato, ora, penso che sia, anzi a notto, visto che si è laureato 57 anni fa, nel 60, quindi insomma, stiamo a fine carriera. Però è stata un'eccellenza italiana. Però è stata un'eccellenza, basti pensare che è stato il cardiologo di Papa Giovanni Paolo II e della regina di Elisabetta d'Inghilterra. 20 anni fa, circa, nel 98 precisamente, il professor Maseri ha creato questa fondazione Per il tuo cuore. È una fondazione che ha tre scopi fondamentali. La ricerca, l'informazione e la divulgazione. Cioè, il concetto fondamentale di questa fondazione è perché un paziente che fuma, obeso, magari anche diabetico, non ha l'infarto. Il paziente magro, che fa attività fisica, che non ha disturbi del metabolismo, quindi non ha glicemia, non ha il colesterolo alto, ha l'infarto. E' questo il motivo fondamentale per cui il professor Maseri ha fondato questa fondazione. Cioè, cercare di capire, la ricerca deve capire quali altri meccanismi ci sono alla base delle malattie cardiovascolari. Cioè, non è sufficiente il fattore di rischio. Ci sarà qualcos'altro a livello genetico che ci spiega questa situazione. E ogni anno l'organizzazione promuove questa raccolta fondi, abbinata in genere al Festival di Sanremo. Quest'anno non c'è stato perché c'era la raccolta dei fondi per le zone terremotate. Ma tutti gli altri anni, al 45-55-0, che è poi lo stesso numero telefonico, c'era questa raccolta fondi per questi ricercatori, giovani ricercatori impegnati in questa lotta per il nostro benessere, per il benessere dei nostri figli. Ma ci sono dei traguardi? Cioè, questa ricerca sta dando dei risultati molto importanti? La ricerca va avanti in campo farmacologico, in campo diagnostico. Ora, praticamente, quando ho iniziato io a fare il cardiologo, quindi nell'88, ormai purtroppo 30 anni fa quasi, l'infartuato si teneva 13 giorni in unità coronarica e poi si mandava a casa, letto poltrona per un mese. Quindi, riposo assoluto. Questa era la terapia. Ora, l'infartuato, con le nuove tecniche, con l'angioplastica, con la coronarografia, dopo tre giorni sta a casa e riprende la sua vita normale. Questo è stato uno dei più grossi, una delle più grosse modifiche alla terapia dell'infartuato. Ultimamente sono alcuni anni che sono venuti fuori nuovi anticoagulanti. Il paziente con la fibrillazione atriale o che aveva avuto un'embolia, fino a poco tempo fa si doveva prendere il cumadine, l'anticoagulante, quindi il prelevo ogni settimana, non poteva mangiare determinate cose, non poteva assumere farmaci antinfiammatori. Ora sono venuti fuori questi nuovi anticoagulanti che permettono invece una vita più o meno normale, più o meno normale, e il paziente si sente più libero e accetta meglio la terapia. Qual è l'inghippo? Che una terapia col cumadine, col vecchio anticoagulante, costa 70 centesimi al giorno. Una terapia col nuovo anticoagulante costa 7 euro al giorno. Quindi l'impegno per la comunità, per lo Stato, sembrerebbe importante. Cioè 10 volte maggiore. Però se consideriamo che questi farmaci sono più efficaci del primo, quindi riducono gli ictus, che è l'evento ischemico cerebrale, e se consideriamo che un ictus costa alla società 30 mila euro l'anno, alla fine vediamo che pur pagando di più risparmiamo in termini di sociale. Assolutamente sì. Va bene, io intanto mando un po' di consigli per gli acquisti e vi aspetto qui sempre a Dottore in Prima Linea con il Dottor Francesco L'Oliva. A fra poco.